Ecco, questi hanno pulito i commercianti qua, hanno pulito l'oro, dovevano pulire quelli della processione e no le chiacchiere, voi siete in campo come facevano una volta le donne di via indipendenza, pulivano sempre loro Mi sono messi i guanti e l'ho pulita, anche se l'ho messa lì Brava, brava, brava Come va il negozio? Tutto bene, eh Mosco, questo non è Natale Non sembra proprio Natale Buon lavoro Grazie C'è un altro lì avanti Sì, lo so, lo so